Si parla di 9 milioni di euro messi a disposizione per le aree rurali, in che modo? Sì, la provincia di Pescara oggi presenta insieme con la società consortia dei terri pescaresi che ringraziamo per aver scelto questa sede per presentare questo progetto importante, questo programma integrato di sviluppo. È un programma che ha a disposizione, che determinerà l'impegno di 9 milioni di euro di spesa in 42 comuni della provincia di Pescara, quindi tutti i comuni delle aree interne in eccezione dell'area metropolitana, grazie a un finanziamento della regione Abruzzo e in particolare dell'assessorato all'agricoltura e quindi l'assessore Febbo che ha messo a disposizione tutte le varie province. In provincia di Pescara la società consortia dei terri pescaresi si è aggiudicata la gara ed è il cosiddetto organismo intermedio, il soggetto gestore di questo programma. La ringraziamo in modo particolare perché ha voluto scegliere la provincia di Pescara per presentare questo progetto, la ringraziamo perché ci ha coinvolto nella fase di preparazione di questo progetto. C'è stata un'attività di concertazione, siamo stati invitati tutti gli enti, le istituzioni, i soggetti portati all'interesse collettivo a presentare le nostre proposte. Sulla base delle nostre proposte è stato costruito questo piano, questo piano che finanzierà interventi che faranno gli enti locali, finanzierà interventi che faranno le imprese e finanzierà anche interventi che faranno le imprese agricole. In che modo potranno disporre di questi fondi tutti quanti i comuni? La società consortile delle pescari si presenterà nei prossimi giorni gli Information Day, quindi organizzerà degli incontri per presentare sul territorio della provincia di Pescara questo programma. Ci saranno dei bandi ai quali le imprese potranno partecipare, ci saranno degli incontri ai quali potranno partecipare gli enti locali e beneficiare di queste risorse. Si è perso tempo purtroppo perché c'è stato un ricorso di una società che era arrivata seconda e poi il Tarra risponde al ricorso, è anche escluso addirittura, ha detto la regione che non doveva ammettere per niente questa società, ma questa è storia ormai, guardiamo al futuro, guardiamo con entusiasmo e ottimismo al futuro, cerchiamo di lavorare in squadra, non è più il tempo delle battaglie di parte, di partito, bisogna lavorare tutti insieme nella stessa direzione se veramente tutti vogliamo lo sviluppo di questo tema. Grazie a tutti.